Oggi voglio parlare della pre-historia dell'informatica, di un periodo in cui i 640k di RAM bastavano per tutti. Già, ma perché proprio i 640k? Prima di continuare, ti ricordo che faccio video dove parlo di Linux, di programmazione e di retrocomputing. Se questi argomenti ti interessano, iscriviti al mio canale, attiva la campanella, commenta e metti un like a questo video. Siamo nel 1977 e quest'anno escono i primi tre personal computer commerciali, il TRS-80, il Commodore PET e l'Apple II. La grande innovazione di questi computer era dovuta al fatto che utilizzavano un processore contenuto in un singolo microchip e questo ha permesso loro di avere dimensioni contenute ed un prezzo conveniente. L'IBM, nel frattempo, era leader del mercato dei mainframe. Quello che vedi accanto alla signora dell'immagine non è un mobile, ma il computer. L'IBM, dicevo, vede questi microcomputer come dei giocattoli e niente di più, convinta che le aziende continueranno ad utilizzare i loro mainframe. E infatti le aziende, ma anche gli utenti casalinghi, hanno iniziato a comprare ed utilizzare i personal computer, molto più agili e a buon mercato di mastodonti dell'IBM. Nel 1980, finalmente, l'IBM si è resa conto dell'errore che ha fatto a sottovalutare i microcomputer e si è messa a fare una cosa totalmente in antitesi con la sua filosofia aziendale. Mentre fino ad allora ogni computer venduto da IBM era stato progettato internamente, utilizzando componenti progettati internamente e con software scritto internamente, se avesse progettato un personal computer seguendo questa metodologia, sarebbe uscita sul mercato troppo tardi. La concorrenza, infatti, non stava mica a guardare, ma uscivano rapidamente nuovi modelli di personal computer sempre più performanti. L'IBM ha deciso, invece, di progettare un personal computer utilizzando componenti di terze parti già disponibili, come il microprocessore Intel 8088 ed anche software di terze parti che sarebbero potuti essere adattati velocemente a questa nuova architettura, come il DOS di Microsoft. Questa scelta permise a IBM di uscire sul mercato in tempi rapidi, vendendo il primo PC nel 1981. Il successo di questa macchina fu strepitoso. La scelta di utilizzare un'architettura aperta, con hardware e software già disponibili, si rivelò per un'arma a doppio taglio per IBM, perché nessuno impediva a qualsiasi altra azienda di fare un personal computer compatibile IBM. E subito il termine PC è diventato sinonimo di personal computer compatibile IBM. E questa è una lezione che ha dovuto imparare a caro prezzo pure la Olivetti qui in Italia. Infatti, nel 1982 esce il computer Olivetti M20, che avrebbe dovuto fare concorrenza a IBM, ma la Olivetti ha fatto due grossi errori. Ha utilizzato un microprocessore incompatibile con l'Intel 8088 e soprattutto, visto che non voleva farsi fare il sistema operativo da quel pezzente di Bill Gates, si è scritto il suo sistema operativo. Questi due fattori hanno fatto sì che, benché a livello di prestazioni l'M20 fosse comparabile o addirittura superiore al PC IBM, il fatto di non esserne compatibile e quindi non poter utilizzare i programmi iscritti per PC IBM, hanno reso questo computer un flop colossale. Imparando dagli errori di questo fallimento, l'anno seguente la Olivetti fa uscire il mitico M24, che questa volta utilizza un processore Intel 8086, una grafica compatibile IBM CGA ma migliore, e soprattutto utilizzava il sistema operativo MS-DOS. Qui, finalmente, la Olivetti si trova in mano a un personal computer non solo tecnicamente superiore a IBM, ma anche compatibile con esso. Questa volta il computer è un enorme successo, non solo qui in Italia, ma anche negli Stati Uniti dove è stato venduto col nome di AT&T 6300. La morale di tutta questa storia è che il punto di forza dei personal computer, in particolar modo dell'architettura x86 di Intel e dei sistemi operativi Microsoft, sta nella compatibilità da un modello di microprocessore a quello successivo e da una versione di sistema operativo a quella successiva. E questo è vero ancora oggi. Se tu prendi il tuo bel PC che hai a casa, puoi farci girare su MS-DOS e qualsiasi software scritto per DOS a partire dal 1981 in maniera nativa, cioè senza alcun tipo di emulazione. Ma torniamo alla domanda iniziale. Perché 640K? La risposta sta nella scelta di IBM di utilizzare il microprocessore Intel 8088 per il suo personal computer. Questo microprocessore poteva indirizzare fino a 1 MB di memoria. L'IBM ha deciso quindi di suddividere questo MB in 640K disponibili per la RAM. Nel 1981, 640K erano considerate una quantità gigantesca di RAM. Basti pensare che la maggior parte dei personal computer contemporanei avevano mediamente 64K di RAM. Non è raro trovare questi primi PC compatibili IBM equipaggiati di soli 128K di RAM. E 384K per la memoria video e per i vari BIOS. Cioè sia il BIOS del PC vero e proprio, ma anche BIOS di altre periferiche, tipo la scheda video o la scheda di rete. Visto che il tema ricorrente di questo video è la compatibilità, anche con l'avvento di microprocessori che potevano indirizzare quantità di RAM molto maggiori negli anni successivi, sotto DOS questi primi 640K rimangono gli unici facilmente accessibili. Nei prossimi video vedremo i modi in cui si poteva andare oltre i 640K sotto DOS e le varie strategie per liberare al massimo questa preziosa parte di memoria. Grazie dell'attenzione. Ti ricordo che trovi i miei video sia su YouTube che su Library. Trovi tutti i link in descrizione. Al prossimo video. Ciao!